Con la sigla dell'accordo, primo in Abruzzo tra le pubbliche amministrazioni, si avvia di fatto la collaborazione tra gli otto enti per la successiva realizzazione dei progetti strategici previsti dal Masterplan. Questo è un accordo che rende certo il tempo di esecuzione degli interventi e la raccolta delle autorizzazioni, ma questo accordo è fondamentale poiché si determina nel riconoscimento reale di bisogni concreti, nella copertura finanziaria certa e in una volontà condivisa di fare tutto ciò che è contemplato. Noi parliamo di un accordo che mette in campo mobilità, mette in campo cultura e collocazione identitaria della città di Teramo e poi ricerca scientifica, sviluppo economico e poi anche un'ulteriore modernizzazione degli spazi destinati all'educazione e alla formazione. Nei fatti è un accordo davvero di sviluppo. Sono contento che si è potuto mettere in campo questa formidabile condivisione. Da questo momento, questo è il momento del DSAQ per intravedere di qui a qualche tempo le tute degli operai sporcate di cemento, perché devono partire i cantieri. Tra i progetti per il territorio, il recupero dell'ex manicomio e la funivia di collegamento tra centro storico e università. Le prime fasi realizzative saranno la messa a punto di progetti esecutivi e di bandi per la realizzazione delle opere. Sono progetti particolarmente importanti, non solo per il significato che assumono per la città, per il territorio, ma anche per la complessità. Sono progetti che andranno a restaurare manufatti importanti, identitari per la storia della città, come l'ex manicomio e quindi sono ristrutturazioni particolarmente impegnative perché sui mobili vincolati e di elevato pregio architettonico ed artistico. Sono progetti di grande rilancio del polo di ricerca dell'agrobio veterinario insieme allo zoo profilattico. Nell'università si procederà a realizzare quel centro AgribioServe che ha un'ambizione, ma un'ambizione direi concreta e fondata, di diventare nel breve giro di qualche anno un centro di riferimento internazionale per questi settori nella ricerca scientifica.